Consiglio Comunale a cavallo tra fine luglio e inizi di agosto a Ischia, come per gli altri comuni con gli atti dovuti, il bilancio, ma Presidente, anche debiti fuori bilancio, quindi soldi che bisogna distribuire. Sì, anche se sono debiti fuori bilancio in un certo senso, ogni anno noi le mettiamo in una posta di bilancio ordinario nel quale indichiamo una somma che prevediamo utile per le sentenze. Logicamente quando queste sentenze diventano poi giudicato quella somma non corrisponde mai esattamente con quella che abbiamo preventivato in bilancio e dunque di questo si tratta. E poi dopo come secondo ordine immediatamente successivo quello del riequilibrio di bilancio, quindi sostanzialmente rispetto al previsionale quello che in questi sei mesi è stato utilizzato in un modo o nell'altro va messo nella giusta posta e messo al giusto posto, anche in considerazione di quello che possono essere i risultati di bilancio delle partecipate. Quindi chiaramente si tratta di tutti atti dovuti, una risistemazione, però sotto si può nascondere probabilmente anche un dato politico, cioè presentarsi in consiglio e verificare chi voterà. Come stiamo ad oggi in quanto a rumors e a realtà di fatto? Abbiamo fatto un consiglio comunale 15 giorni fa, il giorno del 16 luglio, con quel documento firmato da una parte dei consiglieri comunali, Giovanni Sorrentini, come proponore che però, come vedi, nell'ambito poi della votazione immediatamente successiva sull'argomento, che era quello dei TAC che si proposto alla minoranza, comunque la maggioranza è andata compatta. Quindi per quanto mi riguarda non credo che ci sia nessuna ipotesi, diciamo, ancorché paventata da qualche giornale locale tale da mettere in preoccupazione l'amministrazione. Quindi sul fronte di quel documento è sì un invito al sindaco a risvegliarsi e risvegliare l'attenzione su determinate dinamiche, però comunque non c'è uno sfilacciamento o proprio una messa in mora ufficiale? No, non credo proprio, anche perché, ripeto, il voto che ci è stato dato, se fosse stato conseguenziale al documento ci sarebbe stato un voto diverso in consiglio comunale, invece la maggioranza è uscita più compatta di prima. E ti dico di più, spesso questo documento, diciamo, di sollicito, in realtà l'invito del sindaco è spesso quello di porsi, diciamo, tutti quanti in una maniera tale da fare la propria parte per aiutare la struttura, l'amministrazione, noi stessi a uscire fuori appunto da determinate dinamiche. Quale può essere anche quella sollevata con quel documento? Fare il documento semplicemente si riduce poi a fare un ruolo, diciamo, molto marginale, invece dobbiamo essere parte attiva, partecipi ognuno di noi, a appunto risollevare e risolvere i problemi che eventualmente ci sono. Ai fini amministrativi resta ancora da chiarire questo ruolo nel limbo di Roberta Boccafus? Ma sai, ci sono state la rimissione di alcune delle che probabilmente lei si sta concentrando su una in particolare, quella delle politiche sociali. Questo non vuol dire che ci sia necessariamente un'ipotesi diversa, in questo momento non ce la vedo. Quindi tutto tranquillo? Sembrerebbe di sì.